Dovranno soffrire e avere pazienza ancora per un po' i cittadini residenti e le attività commerciali che si affacciano sul tratto della strada litorania dove sarà necessario a breve chiudere del tutto il passaggio per consentire l'abbattimento e la ricostruzione del ponte sul fiume Asa. Ad un anno circa di distanza dal primo annuncio oggi sembra finalmente la volta buona per avviare l'intervento. Il presidente della provincia di Salerno Michele Strianese ed il sindaco di Ponte Cagnano Faiano Giuseppe Lanzara hanno partecipato questa mattina alla cerimonia per la consegna dei lavori che si inseriscono in un contesto che con l'intervento di ripascimento e ulteriori finanziamenti per la strada litorania che riguardano anche il territorio di Eboli e il cantiere in corso in via Pompei sono destinati nel complesso a migliorare nettamente sicurezza e viabilità sulla strada litorania. Abbiamo fatto una consegna parziale del cantiere ma si lavorerà. Puntiamo a fare prima dei 180 giorni previsti e ovviamente tempo permettendo perché è un lavoro all'aperto quindi saremmo sicuramente condizionati ma il nostro obiettivo è riaprire tutto per marzo-aprile per la stagione primaverile estiva. Questa è una zona che purtroppo ha subito dei danni economici come dire dei disagi notevoli per effetto di questa chiusura parziale. Purtroppo per eseguire i lavori in sicurezza e per fare subito tutto in fretta saremo costretti a chiudere l'intera carreggiata durante i lavori quindi chiedo ancora un po' di pazienza. Quanto tempo Presidente? Ovviamente durante i lavori appena sarà realizzato il nuovo impalcato provvederemo a riaprirlo. Ovviamente adesso non possiamo programmare quando sarà abbattuto il ponte, è ricostruito. Nelle prossime settimane sicuramente procederemo all'abbattimento e subito provvederemo alla ricostruzione. Indispensabile accelerare i tempi, siamo arrivati poi nel periodo estivo che condividendo anche con gli operatori turistici si è deciso di rinviare per consentire loro di poter gestire nel miglior modo possibile il periodo estivo quindi usufruendo della litorania anche con il senso alternato però adesso che ormai siamo diciamo in un momento quello là invernale si è deciso di accelerare e di ripristinare definitivamente questo ponte Asa. Un progetto e ringrazio la provincia e il Presidente Sianese perché dopo la tragedia del ponte Morandi si è deciso di fare una ricognizione di tutta una serie di ponti, infrastrutture e quindi era necessario metterlo in sicurezza con la realizzazione di un ponte nuovo, nuovissimo.